il canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo vi faccio un video su questi quattro costruttori su questi quattro costruttori e faccio una specie di recensione di passione unghie tutto passione unghie e ve ne parlo un pochino su ognuno di loro e loro caratteristiche quello che fanno loro uso eccetera eccetera meno se c'è qualcuna di voi che è indecisa anche da acquistare qualche costruttore per fare le costruzioni eccetera eccetera può vedere anche le densità perché infatti io ho preso anche la spatolina sempre le passioni unghie questa così vi faccio vedere quelli che cola quelli che non cola eccetera 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 allora passiamo subito da olimpia 2 allora olimpia 2 è un costruttore monofasico acid free io lo adoro lo amo proprio ho sempre acquistato lui mi ci trovo veramente bene e vi faccio vedere la sua densità allora d'inverno leggermente un po più duretto però è sempre morbido se lavora bene comunque infatti con questo faccio un dito alla volta perché comunque un po cola perché liquidino però d'inverno leggermente denso ma proprio leggermente non più di tanto che poi lo devo pure riacquistare che mi sta quasi finendo comunque ok però come potete vedere vedete che cola adesso ve lo faccio vedere un attimo con la spatolina così lo vedete meglio vedete faccio così anche questa qui la sua densità comunque vedete che cola vedete in questo lato qui sta colando perché è liquidino poi soprattutto d'estate può una cappella lavorarci perché viene veramente veramente tanto liquido però comunque se si lavora lo stesso e cosa dirvi di olimpia 2 allora io ve li dico il mio costruttore preferito ci faccio l'allungamento tutto quanto insomma tutta una ricostruzione ovviamente tutti questi costruttori che vi sto facendo adesso come base ci va la base alfa in tutti questi costruttori e vi dico olimpia 2 ripeto d'inverno leggermente più più densino ma proprio di poco si lavora molto bene mi piace veramente tanto la bombatura mi viene molto bene con questo e ripeto solo d'estate praticamente che è molto liquido e infatti mi tocca fare un dito alla volta di gian di verno 2 diciamo ce la potrei anche riuscire a farcela però d'estate impossibile infatti appena sto facendo la bobbatura già vedo che in del lato del dito dell'unghia comunque mi cola è un po una cappella però vabbè comunque ordinerò sempre questo perché mi piace veramente tanto mi ci trovo veramente bene quindi questo lo straconsiglio poi passiamo al secondo costruttore il creamy builder costruttore trifasico acidi free pure questo serve di base alfa e faccio prima di parlarvene faccio vedere questo comunque la colorazione l'avete vista è trasparente adesso vi faccio vedere la densità di questo come vedete questo è molto differente da olimpia 2 non si muove per un millimetro vedete rimane proprio fermo questo è molto duro molto denso adesso prendo una pallina faccio vedere se riesco eccolo qua vedete non cola per niente sta proprio immobile fermo fisso lì questa è la sua colorazione c'è tante che c'è tante ragazze che non ama tanto questa colorazione però alla fine ragazze tanto vali mato eccetera eccetera c'è voi di c'è dopo sopra ci mettete un colore alla fine si cazzi per dire no però invece me la colorazione non è che mi dispiace non è che fa proprio schifo voglio di allora che dirvi di creamy builder creamy builder pure un altro gel costruttore che amo molto a e olimpia 2 scusatemi questo qui non brucia per niente lampada proprio zero questo qui il creamy builder allora si lavora bene anche questo soltanto che in confronto olimpia 2 è dato che molto denso e molto duro per applicarlo mentre anche fate la bombatura dovete stare lì comunque ci sto io parlo comunque delle esperienze mie che ho avuto con questi costruttori comunque anche come sono faccio un po fatica nel senso a quando faccio la bombatura comunque lo dovete applicare bene eccetera eccetera perché rimane veramente tanto duro un po difficilotto da lavorarci da parte mia però comunque se riesce benissimo c'è uiudi non è che è una gran fatica però mi piace molto poi anche col fatto che molto duro molto denso da lavorare e come gel però si lima veramente che è una meraviglia è proprio morbido limandole molto molto morbido e questo e questo qui però brucia tante lampada io l'ho usato su di me alcune dita mi bruciava altre no altre invece dicono che brucia tantissimo io non so se dipende anche da un'unghia personale di ogni persona perché se qualcuna c'è un'unghia un po più debole un po più sottile o un po rossata per me bruciano anche perché dipende che unghia una cliente secondo me che ha una persona diciamo se ha un'unghia anche abbastanza molto ripeto sottile un po debole può essere il bruciore lo sente ancora di più secondo me poi non lo so però secondo me potrebbe essere anche quello però comunque brucia veramente tanto io ripeto secondo me può essere quello perché ripeto su di me alcune unghie mi ha bruciato altre no quindi non lo so potrebbe essere anche quello e però è molto ottimo questo pure lo straconsiglio poi rimane veramente molto duro e mi piace bello potente insomma diciamo e mi piace veramente tanto e questo qui infatti credo che lo userò d'estate col far però le mie clienti sono molto come si può dire loro appena anche questa qui un po gli brucia che poi questo non brucia apposta vi dico dipende anche dalle unghie della persona come ce le ha se ce la debili o meno e di giame rompere con questo che a presti metto cremi bilder me mazzane c'è io dire cioè non ce la farà né mai e quindi a me mi tocca sapere forse in più due con loro e che devo fare però anche lì a me un'altra mia cliente mi ha detto dai proviamo la prossima volta questo io lo metto vedevo un po comunque di questo qui che dirvi questo qui è sempre costruttore trifasico va sempre la base alfa questa colorazione come avete visto già l'ognola così è molto denso comunque è facile da lavorare c'è da perdere c'è un po di tempo insomma non è come le un più due che vai lì con la bombatura è fatto perché è un più liquido fai fai prima diciamo no questo invece ci devi avere un po più di pazienza insomma comunque anche questo ve lo straconsiglio poi passiamo a monof monof costruttore monofasico acide free questo ha una colorazione questo non so perché ragazzi sto monof ma mi sborda un bel po e faccio pure fatica a porca miseria a levarvi aspettate ecco ce l'ho fatta mi aiuto a questo qui come vedete è molto più liquido di olimpia guardate da solo faccio vedere sempre con la spatolina comunque c'è guardate che roba questo proprio liquido 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 vedete come scende c'è guardate come si è sposta subito la pallina guardate che roba è liquido allora adesso vi parlo anche di questo questo pure colorazione trasparente e già vi dico che monof a me piace veramente tanto è una bomba allora monof costruttore monofasico acide free questo qui l'hanno ideato passione unghie per solo semplicemente per i semi permanenti allora noi quando usiamo i semi permanenti cosa facciamo usiamo la base colore il sigillante alla fine lucido quello che però con questo qui non possiamo utilizzarci anche il gel color di qualsiasi tipo di passione del non passione almeno credo anche quelle del non passione comunque perché invece ad acquistare per esempio solissimi permanenti depressione su risarro su monof questo qui può essere utilizzato anche con il gel color normale e quindi questa qui è la cosa bellissima allora questo qui si usa ovviamente dopo aver fatto la preparazione di lunghe vabbè cazzi ammazzi sappiamo tutti mettiamo il colore e scusate mettiamo lo strato sottile di base alfa e poi mettiamo il monof uno strato sottile tipo lisciamento come si chiama lo scivolamento ecco non lo lisciamento e poi con questo qui bisogna farci una bombatura ma proprio piccolissima non grande ma piccolissima per utilizzarlo e poi dura tantissimo mi piace molto e cosa vi voglio dire un'altra cosa vabbè il colore è trasparentino questo non brucia il lampada almeno quello che ho provato io soltanto c'ho una pecca non so se dipende dalle mie unghie l'ho provato più di una volta ma ho fatto caso che mi spacca le unghie mie naturali non so come poi faccio la preparazione dell'unghia normale semplice come le fanno tutte sulle clienti non è mai capitato per esempio l'ho utilizzato su quelle 3 4 clienti non è mai successo niente su di me invece vedo che in te l'unghia tipo in te laterali così me le fa sfaldare me si spezzano e ripeto con le ricostruzioni oppure con la copertura anche con l'impia 2 non mi è mai successo quindi se qualcuno di voi lo sa mi scrivesse sotto questo stavo dicendo e se qualcuno di voi lo sa mi scrivesse sotto il video nei commenti il perché mi fa questa cosa qui solo a me è perché le mie clienti non è successo mai niente solo a me capita che praticamente sono un offer mi fa spezzare le unghie infatti mi dispiace che mi piacereva mi piaceva ad usarlo da quando mi cresceva di più le unghie poi mi stanno crescendo però lo volevo utilizzare ma se mi fa spezzare le unghie è inutile cioè messe sfaldane messe spezzane proprio parelli in punta boh onte laterali boh vabbè però comunque questo qui ottimo ve lo straconsiglio dura tantissimo e il bello di questo come ho detto di semi permanenti che potete usare anche gel color non solo semi permanenti non brucia vi ripeto facile da lavorare anche questo e quindi lo straconsiglio anche questo poi l'ultimo costruttore che ho che questo qui l'ho voluto solo per provare infatti vedete ho preso da 15 ml del mese scorso se non erro è il milky builder sempre costruttore trifasico acid free questo qui pure serve la base alfa questo qui è alla colorazione bianca adesso la faccio vedere poi ve ne parlo quasi finito perché l'ho adoperato solo su de me infatti ho le unghie che avete visto le mie queste qui blu lo fate con questo cioè l'allungamento la bombatura eccetera allora questo qui pure vedete bello denso ha la consistenza credo se non erro di creamy builder vedete non si muove per niente vedete proprio rimane lì fermo e non si muove la colorazione è molto bella ho visto che anche sul gruppo su facebook eccetera eccetera ho visto che è piaciuto un sacco di persone perché questo qui volendo quando lo applicate che ci fate l'allungamento la bombatura dopo che l'andate alle mare ha un colore spettacoloso e questo mi sa che ha dato anche per faccio il baby boomer qualche sfumatura non lo so però è veramente bello come colorazione tante ragazze se lo lasciano cioè l'olima che lì è l'operatrice che fa le unghie l'olima e poi mette alla fine il lucido e lo lascia con questa colorazione qui che veramente ragazza è una roba stupenda tanto è bellissimo allora cosa dire di questo qui da come mi pare è identico a creamy builder a parte la colorazione pure questo lo stesso fatto dei creamy builder la stesura è un po' più complicata con frutto olimpio 2 no? per fare la bombatura eccetera eccetera rimane molto dura anche questo però ho notato che questo qui brucia di più con fondo a creamy builder io l'ho adoperato anche su mia mamma è morta io ho fatto mamma lo dovevo provare e sembra proprio su di me lo dovevi provare vabbè l'ho provato su di me e ho notato che brucia molto di più con fronte a creamy builder brucia molto molto di più non so voi ma questo costruttore trifasico si acid free brucia molto di più proprio questo è bello tosto è una bomba è tipo creamy builder secondo me assomiglia molto parecchio a parte la colorazione ripeto e brucia tanto il lampada questo comunque molto molto da come ho notato io brucia molto di più con fronte a creamy builder sinceramente molto di più però per questo ve lo straconsiglio io quindi vi straconsiglio tutti questi quattro costruttori perché è una bomba questo forse olimpio 2 ve lo consiglio per l'inverno che rimane leggermente più diretto quest'altro poi per l'estate va più che bene perché comunque tanto tanto duri l'estate può diventare un po' più sciolti ma de poco credo io non più de tanto perché è veramente tanto tosti tanto duri bella densità alta quindi non credo però comunque io vi consiglio tutti questi quattro costruttori dopo io questo qui è finito va bene non lo riprendo più perché volevo acquistare il natural builder se non erro dovrebbe essere lui che lo volevo provare per vedere come mi ci trovavo e se ha la stessa consistenza di creamy builder milky beard la durezza insomma tutto quanto e in più volevo comprare anche i pinky natural quello lì che serve quello rosa latiginoso ecco quello non mi ricordo come si chiama il nome quello rosa latiginoso che ci puoi fare anche il baby boomer insomma no che dopo di dà una passata sopra per fare quell'effetto niente adesso che altro dirvi niente io vi ho parlato sia di olimpia 2 creamy builder monof semi permanente e milky builder ah e col monof un'altra cosa ci potete fare anche di piccoli allungamenti ma proprio piccolissimi mettete la cartina per esempio che ne so una ragazza ha le unghie no leggermente fuori dal polpastrello c'è la una ancora più corta mettete la cartina ci mettete un po' di monof proprio fate quel proprio poco d'allungamento per farlo uguale a quell'altre ma un allungamento cortino non è che ci potete fare i stiletti le mandorle eccetera eccetera voglio dire però per gli allungamenti quelli piccoli microbi si può fare niente io spero che questo video vi sia stato soprattutto utile e mettete il pollice in su sotto nei commenti e niente fatemi sapere cosa ne pensate di questi costruttori se ce l'avete come vi trovate anche voi voglio sapere che sono curiosa voglio sapere come vi trovate e niente fatemi sapere soprattutto sotto nei commenti se qualcuno di voi ha provato monof non so perché ma a me mi si fa asfalda l'unghie mi si spezzane non lo so perché però ripeto quando faccio la copertura sulle mie unghie laterali con l'impia 2 non mi succede niente solo con monof però con monof le altre clienti non è mai successo meno male che si spezzavano l'unghie quindi meglio cusci meglio su di me che sulle clienti insomma e niente io comunque ripeto spero che vi sia stato utile anche per i vostri acquisti se eravate indecisi da qualche costruttore io ovviamente ho solo questi quattro non ne ho altri quindi io vi ho parlato di questi quattro come mi ci sono trovate io mi ci sono trovata bene con tutti e quattro e un po' le caratteristiche di ognuno di loro e vi ho detto e quindi più o meno sapete dare un'idea insomma dopo comunque lo potrete vedere anche nel sito dei passi e unghie sotto dopo c'è scritto le caratteristiche e tutto niente con questo io vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao